... Ennesimo incidente sulla provinciale che da Favria conduce a Busano nel pomeriggio di sabato 27 aprile intorno alle 16.30. Una Fiat Punto condotta da una donna, una 46enne di forno canavese, è uscita di strada nel punto dove manca da tempo il guardrail. Ha sfondato la provvisoria rete arancione ed è finita nella roggia. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Livarolo Canavese e i carabinieri. La donna, subito soccorsa, ha fortunatamente riportato solo ferite lievi. Il sindaco Vittorio Bellona ha sollecitato ancora una volta la città metropolitana per riparare il guardrail. Il sindaco Vittorio Bellona ha sollecitato ancora una volta la città metropolitana per la città metropolitana per la città metropolitana per la città metropolitana. Grazie. Grazie.